come funzionerà la versione di cappello di paglia proveniente dal tredicesimo starter come si comporterà a livello di meta e sarà semplice capirne il funzionamento nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale a breve sarà disponibile lo starter dei tre fratelli luffy ace e sabbo che andranno ad aggiungere ai già numerosi leader presenti in meta altri tre pretendenti al titolo di re dei pirati pugno di fuoco ed il rivoluzionario che tratteremo in delle profile a parte sono però ben lungi dall'essere all'altezza del terzo fratello luffy che personalmente reputo il migliore tra i tre a livello di dinamica calcolando che poi ho un debole per questo personaggio da quando il tcg di one piece ha fatto la sua comparsa sono leggermente di parte ma vi invito a giocarli tutti e tre per saggiarne la forza e rendervi conto che in effetti si trovano su dei piani del tutto diversi luffy infatti avrà la possibilità di curarsi utilizzare le vite che avrà reintegrato in campo avendo la certezza che quelle stesse vite potranno tornargli utili e potenziare se stesso tenendosi ben lontano dagli assalti rivali nel video di oggi perciò andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck scoprendo le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni del capitano più celebre dell'intera saga signori dalle statistiche di youtube ho notato che in media il 77 per cento di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo perciò datemi una mano se ancora non siete iscritti basta un clic per voi è un semplice gesto ma per me è di grande aiuto grazie per il supporto torniamo al video ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di luffi giallo nero andiamo a dargli un'occhiata partiamo dal leader che con i suoi 5.000 punti di forza e 4 vite a supporto ricorrerà alla regola d'oro di ogni tcg se l'effetto della carta va contro il regolamento di gioco l'effetto della carta alla precedenza che vi costringerà a mandare vite volte a faccia in su da quest'ultima zona direttamente in fondo al deck invece che aggiungerle alla mano con due donne assegnati una volta per turno durante la vostra fase principale inoltre se non avrete vite sul terreno potrete scartare una carta mandandola nella fila degli scarti aggiungendo di seguito due costi 5 dal cimitero o dalla mano alle vite con la parte frontale a vista la decklist in questione quindi avrà un gran numero di costi 5 a supportare la strategia dell'intero mazzo e vedrà il quartetto di shiraoshi kozuki yori sabo costo 2 e 5 blocker ace costo 2 e 5 garp luffy costo 2 e 5 borsalino vergo e gecko moria con la coppia di sabo costo 5 dello starter che chiuderà sia la sezione character che la profile le carte cardine di questo mazzo saranno di sicuro tutti e tre i fratelli nelle loro versioni a costo 2 e 5 inclusi i sabo blocker i garp che vi permetteranno di andare alla ricerca dei pezzi sopracitati le hiori che vi forniranno supporto nell'andare a regolare gli inneschi delle versioni bambinesche dei tre fratelli in modo certo e i moria che entreranno in perfetta sinergia con il potere del leader mentre il resto come borsa le shiraoshi e divergo torneranno utili sia per assolvere ai loro compiti tradizionali che per almeno per la sirena ed il membro della ciurma di do flamingo entrare in sintonia con l'effetto del leader altro fattore da tenere bene a mente sarà la sinergia tra le carte scartate ed il recupero che ne potrete fare infatti grazie al potere del capitano anche pezzi eventualmente morti che non potranno essere giocati nel turno corrente torneranno immediatamente utili dato che potrete scartarli e se costo 5 potranno tornare in gioco scoperti nella vostra pila delle vite pronti per essere utilizzati grazie ai vari ace luffi e sabo bambini che con i loro effetti non solo vi daranno la possibilità di rafforzare le linee alleate ma anche di aumentare di ben 2000 punti il valore di forza del leader fino alla fine del prossimo turno avversario bella batosta quando chi vi giocherà contro si ritroverà dover far fronte a dei blocker protetti da qualsivoglia effetto grazie ai sabo di op03 e a un leader con ben 9000 punti da dover superare e fidatevi che non succederà poi così di rado questo mazzo inoltre vi darà la possibilità di usufruire del fattore mostro le vite scoperte da innescare quando se ne avrà la possibilità per avere la certezza matematica di far scendere in campo quello che vi servirà quando vi servirà ultimo ma non per importanza vedrà il re delle tenebre venirvi a darvi una mano soprattutto perché riprendendo dalla pila degli scarti due versioni bambinesche dei fratelli avrete l'occasione grazie ai loro effetti di far entrare in campo tutto il necessario per difendervi rendervi offensivi o semplicemente spaccare pezzo in campo aumentando il muro di potenza del leader che darà del gran filo da torcere alle linee rivali e l'entrata in gioco di sabo blocker che velocizzerà l'intero processo di ciclo aumentando la minaccia che scaglierete ai danni di chi vi giocherà contro quindi dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono passiamo ora qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo ponendoci come sempre la solita prima domanda come funziona questo deck tutto orbiterà attorno ai tre fratelli piccoli all'effetto di cappello di paglia che grazie alla combinazione delle loro abilità creeranno molto subbuglio dando pressione alle difese avversarie in più nelle fasi iniziali di un match o almeno è quello lo stile di gioco che ho escogitato vi converrà prendere quante più vite possibili o counterare con i pezzi a 5 che potranno essere poi riportati indietro con l'effetto del leader per la fase offensiva avrete a disposizione ogni fratello adulto e i sim primis che una volta entrato in gioco picchierà immediatamente grazie alla sua abilità rush il leader stesso e di moria per quella difensiva ci saranno invece i sabo blocker e i borsalino assieme agli effetti dei piccoli che una volta usciti dal campo di gioco se innescati a dovere aumenteranno di ben 2000 punti la forza del leader rendendolo una preda per niente facile trattando invece l'argomento mano iniziale le carte must have da avere saranno di certo un garp uno o due bambini una versione adulta preferibilmente in linea con le controparti a costo ridotto ed un borsa se sarà così potrete procedere tranquilli in caso contrario mulligan ed incrociate le dita parlando di match up questo mazzo farà davvero male se partirà bene perché avrete un ricircolo di caratteri in campo che per la maggiore renderà intoccabili da effetti i vostri alleati reputo quindi luffy un tier 1.5 proprio perché come per reiju se non avrete tutto il necessario per far evolvere i personaggi in campo vi ritroverete a dover rincorrere le dinamiche di recupero che alla lunga vi vedranno perdere terreno per la win condition quella che ho sperimentato è stata metti costi due sacrifica potenziala board aumenta la forza del leader picchia ripeti quando necessario difenditi all'occorrenza e salvaguarda i pezzi che potranno tornarti utili in situazioni disperate come la presenza di colossi difficili da smontare invece le carte obbligatorie che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento saranno tutto il reparto dei tre fratelli piccoli gli ace e i luffy adulti sabo di op03 moria iori shiroshi e garp per i sabo gialli ho visto liste rimpiazzarli con l'event sempre presente nel tredicissimo starter che riprenderà sia il costo che l'effetto dell'eroe della marina mentre per i borsa vi consiglio di giocarli anche se non è un sempre verde ma fornirà quella protezione in più che farà sempre comodo infine per la fase counter avrete a disposizione 34 più 1000 ed 8 più 2000 che potrete utilizzare all'occorrenza tenendo bene a mente che soprattutto per le versioni adulte esse potranno tornare dagli scarti ad essere giocate dalla pila delle vite quindi non dubitate ed impiegatele al meglio per difendervi dagli assalti rivali prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck luffy preferisce partire per secondo avendo un gran numero di drop pari ma anche per primo performerà al meglio grazie a garp che vi andrà a fornire quello di cui avrete bisogno già delle primissime battute di gioco quindi sia in un caso che nell'altro state molto attenti a come molligerete dalla vostra scelta dipenderanno le sorti dell'incontro concludendo questa versione di luffy personalmente mi piace molto e non vedo l'ora di poterla utilizzare anche dal vivo testando ancor più a fondo ogni meccanica che lo muoverà potenziandolo anche grazie all'arrivo di eb 01 che al suo interno conterrà degli elementi molto interessanti che non aspetteranno altro che essere scagliati contro avversari sempre più agguerriti e micidiali e voi quale dei tre fratelli utilizzerete per la maggiore come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere state in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video